nuovo firmware nuova dji fly beh mi sono veramente divertito ho fatto un test pazzesco ragazzi non perdetelo beh un drone che sta migliorando di giorno in giorno vi farò vedere di cosa è capace in questo video quindi partiamo subito senza indugio e vediamoci questo test del nio con l'ultimo aggiornamento rilasciato poche ore fa siamo nuovamente all'interno dell'applicazione dovrebbe sentire il radicomando infatti è così e dovrebbe anche agganciare velocemente i satelliti ok li ha già presi 23 satelliti possiamo decollare e andiamoci a vedere la versione informazioni vedete la versione la 1.14.2 e il firmware del drone è nella versione 0 1.00.0 200 una cosa molto importante quando facciamo questo tipo di prove e andare a impostare nei parametri di sicurezza con il fondo in impostazioni sicurezza avanzate staziona io non metto mai rth perché qualora perdesse il segnale magari sotto una pianta sotto un ostacolo sarebbe un problema perché andrebbe a sbattere invece con stazione non ho nessun tipo di problema cosa mi piace molto di questo drone che io posso volare anche a rasoterra vediamo se riesco a farvi vedere una registrazione a rasoterra con questo drone comodamente e farmi dei passaggi radenti adesso vedete qua davanti a me ho questo scivolo vediamo vediamo se riesco a fare un passaggio così ok guardate guardate il drone ci siamo fatti questa clip e adesso qua faccio una rotazione e torno indietro ok facciamo un altro passaggio in questo modo qua vediamo se riusciamo a passare proprio attraverso a questo scivolo qua io il consiglio che vedo quando fate questo tipo di passaggi e di controllare il drone a vista questo modo non ci sono rischi di andare a sbattere perché con l'applicazione diventa un po più complicato il drone ora vola veramente bene voglio adesso però metterlo in normal e fare una ripresa un po più distante abbasso anche la gimbal per vedere se si scompone sempre il drone però guardate è diventato un po più preciso quindi lo l'ho mandato un po più distante voglio mandarlo a diritto adesso e poi abbassare la rimba per vedere un po se si scompone sempre oppure se è migliorato movimenti lenti non movimenti bruschi ok abbasso la gimbal adesso veramente che lui ha una fotocamera stabilizzata soltanto su un asse adesso sta tirando veramente vento facciamoci un lateral così e poi trasformare tutto quanto in un orbit faccio anche un po salire ok per inquadrare un po la zona proviamo adesso a fare una delle funzioni più avanzate che ho spiegato in un video apposito che è questa seleziono il soggetto e vado su active track premo go ok vediamo se mi segue si mi segue mi segue anche da una distanza notevole forse ancora più distante rispetto a un mini vediamo vediamo a che distanza fino a che distanza riesce a seguirmi lo sto mandando indietro guardate guardate è molto molto interessante questa funzione perché se noi lo teniamo a distante tramite lo stick di destra sto premendo indietro lui continua a inquadrarmi rimane fermo rimane fermo e mi inquadra veramente da una distanza notevole cosa è cosa che neanche air 3 riesce a fare se io lascio lo stick lui si avvicina quindi è una funzione che può essere attivata all'occorrenza direttamente in questo modo come vi ho detto tramite lo stick di destra noi premendo indietro fermiamo il drone lui ci continua a inquadrare poi lasciando lo stick lui ci insegue comunque da una distanza buona da una distanza accettabile provo adesso a farlo salire un po' vediamo se riusciamo più di così non sale più di così non sale comunque veramente ottimo mi piace molto la funzione seguimi questi questa intelligenza artificiale comunque questi automatismi avanzati sono decisamente migliorati rispetto alle prime versioni ma anche dei droni più costosi e questo lo rende un drone fantastico per certi per certi tipi di utilizzi è veramente un drone interessante stop tutto quanto adesso vedete il soggetto può essere tracciato con il follow me ma non possiamo fare lo stesso con ad esempio veicoli oppure altri altri mezzi quindi riconosce proprio le persone in alternativa possiamo utilizzare il poi point of interest vi invito comunque a vedere un video che ho fatto appositamente andiamo a vedere nel menu nei comandi quindi possiamo calibrare la stabilizzazione questo vi consiglio di farlo insieme alla calibrazione della bussola e dell'imu tramite regola guadagno di esposizione posso andare a regolare tutti i parametri come per gli altri droni quindi farò un video apposito sugli exp rimanete sintonizzati perché questa funzione mi sembra veramente interessante come dicevo su qualsiasi soggetto oppure oggetto possiamo andare a fare lo spotlight io vi consiglio di farlo in cinema fino a che non tirate bene gli exp e vedete tiene al centro l'oggetto che abbiamo selezionato bellissima questa funzione la qualità del segnale mi sembra buona adesso la proviamo meglio proviamo a mandarlo un po più distante messo in normal un po rumoroso come il drone si sente anche una certa distanza e anche le persone se ne accorgono proviamo a mandarlo un po più distante naturalmente il test lo facciamo a vista giornata ventosa quindi devo stare anche attento a non perderlo ok però si vede bene sarà perché è compatto le eliche sono nere comunque il drone lo si vede bene a una certa distanza guardate sono a quasi 100 metri comunque il drone lo vedo chiaramente mi sembra migliorato mi sembra decisamente migliorato lo riporto verso di me metto in sport guardate bello faccio anche un po salire inquadratura verso il mare motori a manetta sicuramente starà drenando la batteria guardate bello però comunque riesce a resistere guardate allerta vento forte oggi è una giornata non bella per volare però comunque lui riesce a resistere anche a raffiche di vento da 25 chilometri 30 chilometri orari come oggi beh lo facciamo a terra ragazzi e questo mio mi sta veramente piacendo perché perché vedo comunque DJI che ci sta lavorando e un dronettino dal prezzo contenuto molto interessante beh che dire mi sembra un po migliorata la stabilità mi sembra migliorata anche la durata della batteria perché mi sono scaricato una batteria però ho volato più di 14 minuti e ancora ne avevo inoltre mi è piaciuto veramente tanto nelle funzioni automatiche nel seguimi la possibilità di tenere il radiocomando con lo stick indietro lui si ferma e continua a inquadrarti rimane distante quindi è fantastico avere un punto di vista distante quando ci vogliamo riprendere a distanza da un drone lasciamo lo stick e lui riparte e continua a seguirti quindi un'ottima cosa non sapevo che fosse possibile magari la proverò anche con mini 4 pro ma adesso vi chiedo voi conoscevate questa cosa la possibilità di mantenere il drone distante che continua a seguirti con lo sguardo semplicemente con questo comando qua se lo lasciamo lui ti segue e continua a riprenderti come un fedele compagno di viaggio ci vediamo in nuovi video fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi se ancora non siete iscritti alla prossima ciao